C'è sempre più bisogno di dialisi nella nostra regione, siamo a Montesilvano al centro beta dialisi proprio della cittadina adriatica. Dottor Di Gian Domenico, voi siete all'avanguardia per quanto riguarda la dialisi nella nostra regione, un centro di eccellenza, tanto lavoro, c'è sempre più richiesta di dialisi in Abruzzo. Allora, noi siamo partiti nel 2016 con il fabbisogno regionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 12 agosto di quell'anno, poi abbiamo fatto richiesta e nel 2019 ci viene assegnato 19 posti di dialisi. Ci viene dato un anno di tempo sempre dalla regione, l'abbiamo realizzato, l'abbiamo autorizzato a marzo l'anno scorso e sotto la pandemia abbiamo aperto perché c'era l'esigenza. C'era stato promesso e ci veniva riconosciuta la convenzione e tutto il resto, ma infatti questo non è avvenuto. Sono un anno e più che la beta dialisi sostiene il costo della terapia per questi pazienti che a titolo completamente gratuito. Quindi noi quello che chiediamo adesso è che l'assessore, la dottoressa Verì, il governatore e il direttore della ASL sistemino la questione amministrativa colmando il gap che c'è tra l'autorizzazione, la convenzione e l'accreditamento. È un anno e più che ormai ci rapportiamo con la ASL ma non si addiviene a niente perché loro vogliono parlare con noi solo dopo che siamo accreditati. L'accreditamento dipende dalla pubblicazione di un bando regionale che non sta avvenendo e non è previsto nemmeno nei prossimi anni che venga. Siamo con il presidente regionale dell'ANED perché? La domanda sorge spontanea, il caso di dire lei oggi è qui perché? Perché l'ANED sostiene questa causa? Noi siamo qui come segretario perché sono stata chiamata da alcuni pazienti che fanno dialisi qui perché tuteliamo gli dializzati. Siccome l'ANED è notoriamente contraria, diciamo che noi siamo più favorevoli al pubblico però in questo caso io devo dire che pur avendo fatto io stessa un attacco iniziale all'apertura di questa dialisi dove la regione poi alla fine non mi ha dato ascolto, siamo venuti per vedere qual era la situazione. Mi sembra che la situazione qui sia abbastanza reale nel senso che i pazienti sono completamente tutelati e poi questi pazienti vogliono rimanere qui. Per cui non capisco perché la ASL non trasferisce direttamente i soldi che questi pazienti di cui avrebbero diritto al dottor Di Giandomenico perché comunque alla fine è qui che vengono a dializzare ed è qui che vogliono dializzare soprattutto in tempo di pandemia, si sentono più tutelati. Grazie.